È scomparso all'età di 92 anni, il celebre professore noto al pubblico televisivo per le numerose inchieste a lui dedicate dal programma Le Iene. Prima di continuare ricordati di iscriverti e attivare le notifiche per non perdere i nuovi contenuti e per sostenere il nostro lavoro. Il tuo contributo è prezioso, grazie di cuore. Carlo Gilardi, figura di spicco nelle battaglie per i diritti dell'uomo, ha lasciato questo mondo nella mattina del 23 ottobre 2023 presso l'ospedale Il Nespolo di Airuno, una località situata nella provincia di Lecco. Carlo Gilardi si era reso noto per la sua incrollabile impegno a difendere la libertà e aveva portato le sue lotte fino alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Grazie ai molteplici servizi delle Iene, era diventato un volto familiare per il pubblico televisivo. La sua vicenda personale era stata segnata da un episodio drammatico avvenuto nel 2020, quando, contro la sua volontà, era stato internato in una residenza sanitaria assistenziale, RSA Alecco, a causa di presunti abusi da parte di coloro che lo assistevano e che sembravano approfittare del suo patrimonio. Carlo Gilardi, recentemente nominato cittadino onorario di Airuno, il suo paese d'origine, aveva suscitato un forte sostegno da parte dell'opinione pubblica. Gruppi su Facebook erano stati creati per sostenere la sua causa, e lo scorso giugno persino il celebre tenore Andrea Bocelli si era recato alla casa di riposo per esprimere i suoi auguri, anche se purtroppo non era riuscito ad avere accesso al professore. La sua morte rappresenta la fine di un capitolo importante nella lotta per i diritti civili e umani.